Il progetto ITACA è una iniziativa nata a Palermo nel 2011 aderendo a un modello internazionale e il nostro obiettivo è quello di restituire alla vita attraverso delle procedure che interessino tutti gli aspetti le persone che soffrono i disagi mentali e sono vittime dello stigma che normalmente la società attribuisce a questo tipo di disturbi che invece sono in genere malattie perfettamente curabili. In che modo? Abbiamo due linee di azione, una è quella che aderisce al modello internazionale della Clubhouse che è una struttura autogestita dai soggetti che entrano a farne parte, che sono i nostri soci e che imparano in questa maniera a trovare un'autonomia esistenziale che normalmente è negata e l'altra che invece si occupa di formare alla gestione di questo tipo di problemi le famiglie, i contesti sociali e anche molto importante e si aggaccia con l'iniziativa che stiamo postando avanti con il mondo del lavoro che è quello che dà la piena autonomia a questi soggetti. Da un concorso di idee di Fondazione Accenture Italia e Progetto Itaca Milano è nato questo progetto Job Station che grazie al supporto e ai contributi di Fondazione Italiana Vodafone è arrivato anche a Palermo, quindi da noi, da Progetto Itaca. Ecco perché abbiamo pensato, insieme alla mia amica Manelle che mi ha messo in contatto con il mondo dello sport abbiamo pensato di organizzare un evento di beneficenza per far conoscere questo progetto di inserimento lavorativo a distanza appunto Job Station perché dobbiamo cercare delle aziende che abbiano la volontà, la voglia e la fiducia di affidare un contratto di lavoro a uno dei nostri ragazzi associato alla nostra associazione Progetto Itaca Per Mollus e questo lavoro a distanza permetterebbe a una persona che soffre di disagio psichico di inserirsi nel mondo del lavoro e quindi sentirsi più utile alla società, di sentirsi in qualche modo normodotato. Ecco perché abbiamo pensato di coinvolgere la città di Palermo in un evento così ludico diciamo perché lo sport unito a un momento di grigliata grazie al nostro Vittorio Filippone con Culinario che offrirà questo momento di cucina e anche grazie ai nostri amici DJ che verranno a alternarsi e mettere della musica con Vito Priolo di Decibel che ci mette a disposizione il service, abbiamo organizzato domenica 9 questi tornei ai campi di Paddo e il Palermo messi in concessione dai proprietari Alessandro Marsaglia, Massimo e Manfredi Tesauro. Questo progetto deve arrivare a tutti, a tutte le aziende per sensibilizzare appunto questo modo di volersi aprire e dare la possibilità a qualcuno che in questo momento si sente non abbastanza importante per poter fare qualcosa, dobbiamo dar fiducia.